Controlli straordinari della polizia a Roma, presso il Campanomedi di via di Salone al Casilino. Sono state identificate 170 persone, di cui 84 con precedenti di polizia. Durante i controlli gli agenti hanno anche rintracciato un minore, nei cui confronti è risultato un ordine di carcerazione per violenza sessuale. È stata inoltre rintracciata una minorenne romena, che in attesa di congiungersi in matrimonio con un connazionale, era stata affidata dalla madre a un'altra cittadina straniera, a sua volta allontanatasi dal Campanomedi. La giovane è stata accompagnata in un centro di accoglienza del comune.